Metti una mattina ad Osimo, nei locali della parrocchia Sacra Famiglia con l'assessore ai servizi sociali, la responsabile della Caritas e tante amiche ed amici che avevano il piacere di condividere con noi il loro tempo, ad imparare anche a conoscere come consumare il cibo, quello che ha ancora pochi giorni di vita, magari anche poche ore di vita, un peperone rugoso, delle zucchine acciaccate, la carne solo ossidata ma ancora buona, della frutta da selezionare, come vedete questi frutti di bosco che sembravano da buttare invece ancora no, il pane del giorno prima. Beh ragazzi è impossibile capire quanto si può fare con quello che più definiscono scarto, come far diventare tutto buono? Semplice, usando la fantasia, preparando impasti base, giocando con i gusti e azzardando, sì proprio azzardando l'impossibile e poi ti ritrovi a mangiare bene anche se spendi il minimo, anche se quei prodotti te li hanno regalati perché andavano buttati, lo confesso, quando sono arrivati in questa grande cucina non sapevo che cosa avrei cucinato, non conoscevi i prodotti, gli ingredienti, i fornelli, il forno, tutto spento e un po' tutto al buio, come ha detto qualcuno è stato come a Masterchef e la Mystery Box, avete presente? Sì, vero, ma con ingredienti di seconda e anche terza scelta, ma che figata ragazzi, e poi alla fine ho preparato pure la marmellata con le giugiole perché stavano lì da buttare, non si butta niente, recuperiamo e con un po' di mele facciamo anche, anche quelle, un tantino acciaccate, prepariamo la marmellata e poi c'erano le zucchine e le carote che fate, non prepariamo gli gnocchi, con la Rinaldi anche gli gnocchi, in due ore otto pietanze, gradite e spazzolate. Grazie ragazzi per aver partecipato, grazie veramente di cuore per tutto quello che ho potuto imparare in questa meravigliosa giornata dedicata a quel cibo che i più buttano, ma impariamo invece a recuperare tutto. Grazie. 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 Grazie.